Ciao a tutti ragazzi benvenuti al nuovo unboxing Oggi faremo l'unboxing della Animus Edition di Assassin's Creed Allora comincio subito con una premessa Questa Animus Edition l'ho già aperta Perché? Perché è un regalo di Natale Quindi non mi sono voluto rovinare il momento di aprirla Allora Subito vediamo davanti della confezione che c'è i segni di assassini in rilevo Questo qua è la copertina del gioco, no questo cartone La copertina dell'Animus Edition è fatta di pelliccia lenticolare e sembra in 3D Quattro i segni di assassini tipo di fuori Poi giriamo la confezione qui Assassin's Creed Revelation Giriamo ancora e ecco qua E' bella pesante l'Animus Edition L'Animus Edition conviene L'Engiclopedia, l'approfonditissima Engiclopedia L'Animus Box, il film Assassin's Creed Embers è fatto in guida telegrafica Il mail alla colonna sonora di Assassin's Creed e il videogame con contenuti gioco esclusivi In cui possiamo trovare l'armatura di brutto di Ezio Auditore Che era presente in Brotherhood Una missione bonus E delle armi esclusive Queste qua Queste sono bombe o altre cose Poi abbiamo anche due personaggi multiplayer che non mi interessano Perché non ho il Gold Box Live Gold Ma andiamo subito ad aprire questa fantasticissima confezione Allora Allora Alleviamo il cartone Speriamo che non si strappa Già l'avolo aperto ma Ecco Passiamo la confezione Aspettate l'altendo un momento Perché Non voglio Regare alcun danno Al cartone Scerlo Ed ecco che Abbiamo quasi levato Il cartone Ecco Questo qua È il cartone L'esterno Lo è scritto Assassin's Creed Revelation Per Xbox 360 Giustamente Io non ho altre cose Ora vediamo subito la Animus Box Che era questa qua Come ho detto prima È fatta di pellice lenticolare Davvero molto bella In tutti e tre i lati Con esempio La Black Room Dell'Animus Una bella pesante questa Animus Allora Qui subito vediamo la Il velluto Questo qua L'ho scritto Animus 16 Mi costa inna Gli assassini E leviamo Il coperchio Questo qua Velluto E troviamo subito Il gioco Che già ho aperto Comunque Vi farò vedere L'interno Vi sta ancora con c'è stigillo Apriamo eh Troviamo il gioco Con una skin Veramente molto bella E la colonna sonora Bellissimo Un'ottima colonna sonora Con tantissimi contenuti Poi abbiamo il Pensate che lo prendo Passport online Dell'Uplay Sì Sì Devi play Poi abbiamo Il Manualino di gioco Sì perché è un manualino Undici pagine Guardate qui vi faccio vedere Ci sono anche delle pagine Per le note Sì in totale Sono undici pagine Facciamo conto che due Sono per le note Quindi sono davvero Molto poche Abbiamo anche il codice C'è la limite Di che contiene L'armatura Da brutto Che era presente In bradehood Come ho detto prima La missione Ehm Le armi E il personaggio Multiplayer Ok Dentro la copertina Abbiamo visto tutto Ora andiamo a vedere Quello che rende Veramente una limite Di questa limite Questa Animus Abbiamo subito Assassin's Creed Embers Un Ehm Cartone animato In gombita e grafica Molto violento Ci lo fanno anche vedere Animated violence Della Ubisoft E' pronto E' la Ubisoft E' la Ubisoft Workshop UbiArt Niente Sono gli stessi creatori Reman Origins L'UbiArt Fa Ma se ne vedo Il contenuto Più importante Che si trova Qui dentro Guardate qui Che bello Già Si vede L'ho lasciata All'ultimo Perché Da buoni Verdi Tutti i nerd Fanno così Bellissimo Assassin's Creed Angiclopedia Qui segna Gli assassini Tutto Argentato Nel retro Abstergo Sapete tutti Cos'è l'abstergo Andiamo a sbirciare Un pochettino Guardate qui Quante cose ci sono Non voglio Ci saranno Ci sono Dentro questa Convezione Ci sono Molti spoiler Dentro questa Angiclopedia Scusatemi Ma Ehm E quindi Non voglio Non voglio farvi vedere Tutte cose Perché c'è Quel spoiler del gioco Comunque Questo E' il contenuto Della Animus Edition Dentro Animus Edition Con questa Fantastica Convezione Troviamo La bellissima Angiclopedia Il Corto animato Assassin's Creed Embers Un codice Esclusivo Per la Limited Il manuale Di gioco Il passport Online E dentro La confezione Troviamo Il gioco Con Colonna sonora Ma ora Andiamo Diciamo Se il gioco Vale la spesa Allora La Animus Edition Vale Costa 99 euro Allora Vale veramente Acquistarla Sì Anche se I contenuti Sono Molto buoni Doviamo Questa Angiclopedia Che è La cosa Più buona È la Limited Con questa Bellissima Convezione Che mi piace Davvero Moltissimo 99 euro Sono anche Buoni Per il gioco Il gioco Ormai Costa 49 euro Mi sembra Comunque Sono È bastito Di prezzo Il gioco Merita davvero Tantissimo Già Ho fatto Qualche livello Per provarlo E quindi Guardate qui Tutto il contenuto Davvero Un'ottima Limited E ne approfitto Anche per dirvi Che ho Saints Row The Teard È un videogioco Davvero Molto bello Con un grado Di personizzazione Davvero ottimo Comunque Davvero Un ottimo Videogioco Il videogioco Non è il mio Ma di mio Fratello Adesso Cerchiamo di aprire La confezione Del gioco Allora Qui dovrebbe esserci Il disco di gioco Ma non c'è Perché È dentro L'Xbox Ho lasciato Lì dentro Per sbaglio Quindi Qua abbiamo Il manuale Di istruzioni Che è un manuale Molto complicato Si apre Tipo È un Non è il solito Manuale Tipo questo È un manuale Che si apre Tipo un voglio Grande Comunque Ragazzi Ne approfitto Per salutarvi Questo qua Era l'unboxing Della Animal Edition Di Assassin Creed Come ho detto Prima Vale assolutamente L'acquisto La spesa Vale assolutamente La spesa Ciao E grazie per la visione